Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare l'aggiornamento firmware del flight controller CLRacing F4 Per prima cosa scarichiamo l'impulseRC driver fixer, trovate il link in descrizione. Avviamo il software e colleghiamo il flight controller al PC I driver vengono installati in automatico e al termine della procedura il programma si chiude. Ora premiamo il tasto BOOT, colleghiamo il cavo usb e avviamo Betaflight Come vedete siamo in modalità DFU che ci consente di fare l'aggiornamento firmware Clicchiamo su Firmware Flasher In questo menu scegliamo il target, selezioniamo CLRacing F4 Qui scegliamo la versione firmware, io vi consiglio di usare sempre l'ultima versione disponibile Abilitiamo Fullchip Erase e clicchiamo LOAD FIRMWARE ONLINE Dopo clicchiamo FLASH FIRMWARE Una volta terminato il processo il nuovo firmware è installato, quindi possiamo connettere Ora possiamo configurare la scheda in base alle componenti che abbiamo installato nella nostra build Questo era il mio tutorial su come aggiornare il firmware del flight controller CLRacing F4 Grazie per aver visto il video non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video